Avere dei sogni è qualcosa che dà sapore e interesse alla vita. E uno di questi sogni è essere un uomo libero. Finché ci sono persone che cercano la libertà, il mondo non rischierà di scomparire nelle tenebre. Avere dei sogni è un uomo libero. Grazie a tutti. Sous-titrage ST' 501